questo programma è offerto da arti sonanti media musicali di Ernesto Giannotta il gusto che suona è arti sonanti piazza Vittoria Emanuele II Catania telefono 095 35 23 711 Mario Christmas le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi nell'album due grandiosi meriti Mario Christmas il tuo disco di Natale Baccalluzzo e Venti la pirotecnica scenografica lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e Venti via Enrico Pantano 47 Catania telefono 095 715 0414 sport e non solo la rubrica di Armando curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi sportivissimi sportivi buonasera a tutti da Globus Radio Station questa è la voce di Armando Garufi si comincia un'altra settimana all'insegna dello sport all'insegna delle curiosità sportive stasera siamo veramente tanti in studio molto ben attrezzati devo dire visto soprattutto lo sport di cui parliamo stasera si parla di Judo si parla di Judo a certi livelli lo facciamo con il maestro Giovanni Strazzeri consigliere nazionale della federazione italiana lotta Judo karate atti e marziali arti marziali la sigla è particolare Fiscil Cam prendiamo naturalmente tutte queste cose lo facciamo con Mario Strazzeri nazionale di Judo nonché atleta di punta dello Judo siciliano e lo facciamo con Oliver Grasso vice campione italiano di Judo categoria cadetti partiamo subito con il maestro Giovanni Strazzeri buonasera buonasera allora maestro qui abbiamo un po' diciamo la creme creme del Judo siciliano perché abbiamo un atleta nazionale della nazionale azzurra che forse è l'unico rappresentante o la maggiore rappresentante del Judo siciliano e abbiamo un vice campione italiano allora lei è consigliere nazionale della federazione italiana lotta Judo karate partite arti marziali la Fiscil Cam che credo sia una federazione in buona salute è vero? sì sì è una federazione in ottima salute è una federazione che si fa sempre in crescita da sottolineare che il Judo siciliano non è solo questo perché il Judo siciliano è molto più ampio e conta atleti di altissimo livello e noi in Sicilia abbiamo il piacere in questo periodo in questi ultimi anni di avere atleti titolatissimi Catania siamo una forte rappresentanza perché abbiamo degli atleti di buon livello ma in Sicilia se non sbaglio la Sicilia ha avuto sempre delle ottime tradizioni ma la Sicilia ha avuto delle ottime tradizioni in quest'ultimo periodo abbiamo due atleti di punta che sono arrivati fino ai vettici mondiali ed europei abbiamo Manzi che è stato vice campione del mondo abbiamo Pantano che l'anno scorso è stato campione d'Europa e quindi siamo in buonissima salute in ottima salute e speriamo di riuscire a salire ancora i gredini più alti oltretutto lei ha una scuola a Gravina di Catania noi abbiamo una scuola a Gravina a Dynamic Center da quest'anno è il trentesimo anno che siamo sul territorio quindi chissà quanti ne sono usciti fuori da quella scuola ne sono usciti moltissimi ne parliamo uno dei tanti è Mario Strazzeri cognome si capisce che è il figlio però non lo presentiamo qua come figlio ma lo presentiamo come nazionale della squadra nazionale di Judo nonché veramente atleta di punta da quanti intanto che categoria? perché qua diciamo che il più piccolo che presenteremo dopo è un Bessione mentre tu sei più un Mingherlino che categoria rappresenti tu? io per adesso sto combattendo nella categoria dei 73 kg stiamo svolgendo un ottimo lavoro perché è da tantissimo tempo che praticiamo attività agonistica adesso in questo periodo cerchiamo di rappresentare la Sicilia nel miglior modo possibile a livello nazionale perché avendo i campionati italiani assoluti a dicembre cerchiamo di dare il massimo durante l'arco dell'anno da quanto tempo sei in nazionale tu? ma in nazionale ci sono diverse gare di interesse nazionale ho un paio di anni che riusciamo a collaborare appunto con la stessa nazionale della federazione e quindi di fare delle gare all'estero per poter portare prestigio alla stessa nazione tu hai partecipato anche agli europei? sì, nel 2007 sono riuscito ad arrivare al quinto posto agli europei come... ed è stata una bellissima esperienza successivamente a questa gara abbiamo fatto anche le olimpiadi giovanili europee dove mi sono classificato al settimo posto e negli anni successivi ci siamo dati da fare per arrivare a un buon livello diciamo semi-professionistico proprio... ho capito qui accanto a me ho il piccolino del gruppo piccolino perché ora gli facciamo dire l'età ma è il più grosso il più possente del gruppo pensate fa tre armando tre armando ora tu ci dici quanti anni hai quanto sei alto quanto pesi e poi naturalmente parleremo un poco del titolo sfiorato vice campione italiano quindi quasi campione italiano del gruppo cadetti diciamo giudo cadetti categoria cadetti allora quanti anni hai? Oliver Grasso allora ho 14 anni quanto sei alto? un'ottantacinque per quanto di peso? centododici centododici quindi categoria dai 95 in su più novanta più novanta e un'altra cosa quanto porti di piede? cinquanta cinquanta pensate che cosa io porto 39 e mezzo quasi 40 quindi potete immaginare come mi sento allora Oliver quando hai cominciato la tua attività? ho cominciato verso i quattro anni e mezzo e cinque quindi già hai circa dici anni di esperienza hai partecipato non da molto ai campionati italiani arrivando secondo sì l'esperienza ecco che esperienza come l'hai vissuta questa esperienza? è una bella esperienza quante gare prima di arrivare alla finale? cinque cinque gare tutte vinte con facilità? no no va bene forse c'era anche l'emozione iniziale io non mi voglio sparare altre domande me le sparo dopo anche perché so che tu hai partecipato agli europei a Brian no non erano europei volevo premettere che lui già nel mese di novembre del 2013 è arrivato terzo ai campionati italiani esordienti alla prima prima gara nazionale che ha fatto e poi si è ripetuto praticamente il mese scorso ai campionati italiani cadetti pur cambiando categoria ho capito la cosa che dobbiamo dire di Oliver che in questo momento è la cintura nera più giovane d'Italia perché la nostra federazione permette di diventare le cinture nere dei cadetti in poi e quindi lui è il primo anno ma lui gli anni li fa a fine anno quindi di conseguenza rientra nell'anno a fine anno farà 15 anni 15 anni 15 anni e mi dico una cosa maestro le caratteristiche di Oliver quali sono? un mangione un mangione si vede infatti poc'anzi gli ho detto che deve parlare al microfono anche se si chiama gelato questa qua non lo deve mangiare si vede no no è un ragazzo che ha un carattere mi sembra un gigante buono vero? è un gigante buono infatti busca botte dalla mattina alla sera e invece le caratteristiche di Mario a prescindere dal fatto che sia il figlio insomma non parliamo solo dei pregi parliamo anche dei difetti no Mario è uno degli atleti più tecnici d'Italia posso dirlo a voce alta non perché è mio figlio però è ben considerato in tutta Italia non è stato molto fortunato di avere risultati poteva per il lavoro che fa per come si muove per quello che dà poteva dare molto di più di quanto ha dato di quanto ha ricevuto ho capito allora primo piccolo spazio musicale poi dopo inverteremo le posizioni nel senso che farò la prima domanda a Oliver per poi passare a Mario Stazzeri per poi arrivare al maestro Giovanni Stazzeri Happy Farrell con no Happy di Farrell Williams Farrell Williams con Happy Felice io sono felice di avere questi ospiti qua stasera ripresentarli vabbè li ripresentiamo anche se naturalmente ci vorrebbe qua da parlare tantissimo allora Giovanni Stazzeri ricordo consigliere nazionale della Figilcam che è la federazione italiana lotta judo karate arti marziali abbiamo Mario Stazzeri nazionale della squadra di judo atleta di punto del judo siciliano e Oliver grasso vice campione italiano judo cadetti categoria cadetti io parto proprio da Oliver Oliver io so che tu sei stato dirigente a Zagabria avete avuto delle gare europee e non è andata tanto bene come mai che cosa è successo non è so che un judoca alla tua portata però qualcosa evidentemente si è rotto in quel momento che è successo l'emozione e un po' di paura un po' di paura vabbè io credo che sia naturale un ragazzo della sua età che alimentazione mantieni tu per essere così in gran forma no no dicelo perché sono curioso di saperlo la mattina mi compro una cartocciata e di solito una pizzetta o una raviola questo la mattina ma tutte e tre si rimangono uno uno e uno o uno uno per tre uno o un altro oppure tutte e due no tutte e tre a questo punto ecco va bene poi e poi di pomeriggio qualche cucina a mia madre poi se non mi sa se non apro il frigorifero ho capito e la sera svaliggi anche il frigorifero maestro è logico questo tipo di alimentazione oppure il maestro consiglia un'alimentazione diversa no no l'alimentazione dovrebbe essere diversa però quella stazza non gli permette di stare un attimo fermo quando siamo in viaggio devo legargli una corda perché lo trovo sempre a mangiare panini nascosto scappa a aeroporto a aeroporto a mangiare ho capito evidentemente comunque brucia tutto quello che mangia perché mentre Mario che alimentazione usi vedo che tu sei un fisico sicuramente più asciutto sì giustamente io anche avendo superato la fase della crescita devo mantenere un'alimentazione più corretta per ecco la vera alimentazione quale dovrebbe sapere quella che bisogna seguire realmente sarebbe un giusto apporto di carboidrati che sia appunto dia l'energia di base per svolgere attività agonistica e sportive in generale poi anche incrementare con la carne e poi anche i lipidi quindi tutto il cibo grasso è essenziale per l'energia ma molti magari quando fanno la dieta perché da noi il fattore peso è molto importante Oliver è fortunato che essendo in una categoria che sia oltre non ci sono limiti diciamo mentre per voi dovete rientrare in certi limiti molti magari eliminano nell'alimentazione la pasta però fondamentalmente è quella che realmente dà l'energia al nostro organismo per poter fare bene in gara maestro strazzelli naturalmente noi non ci vogliamo fermare alla vostra scuola perché il movimento dello judo a Catania è un movimento vasto che comprende tantissime scuole da cui escono anche altri campioni il judo sia a Catania sia in Sicilia in questo momento le ripeto vive un momento molto florido lei immagini che nella classifica del 2013 dove più di 500 società erano in zona classifica in zona punto nelle prime 30 in tutta Italia sei solamente siciliane di cui due catanesi quindi il judo siciliano il judo catanese oltre dare dei campioni di livello come Angelo Lanzafame Luca Lafauci che sono di una società di Catania però anche in Sicilia porta e dà dei campioni di altissimo livello noi abbiamo adesso un siciliano che dovrebbe stato convocato l'unico atlete in Italia che è stato convocato per andare a fare le Olimpiadi giovanili in Cina nel mese di agosto del maestro Corrado Buongiorno che è il vicepresidente della nostra federazione in Sicilia e sono di Furcisicolo quindi la scuola è una scuola veramente la Sicilia che sforna tutti questi la Sicilia in questo momento da un paese in questa parte sta sfondando dei campioni veramente eccezionali oltretutto diciamo che lo judo è uno di quegli sport alla tasca di tutti nel senso che il kimono ci vuole forse solo il kimono con le cinture e poi l'iscrizione in palestra quindi permette un po' a tutti di poterlo frequentare ma per essere un buon judoka quali sono le caratteristiche secondo me costanza e volontà sì costanza e volontà come tutti gli sport in ogni caso più che altro ci vuole ci vuole passione la passione è quello che ci porta a fare dei sacrifici perché non è uno sport facile è uno sport abbastanza dove io penso gioca un grandissimo impegno soprattutto la concentrazione sì quello è importantissimo ma lo sa in tutti gli sport porta questo giudo in modo particolare perché fa parte anche della caratteristica degli sport orientali entrando più nella tecnica quante mosse se possiamo definire tali ci sono nello judo ma non sono tantissime guarda quelle codificate sono intorno a 40 però sono molto molto di più le tecniche sono tantissime chiaramente nelle fasi di gara del combattimento non vengono applicate tutte perché poi si va verso una specializzazione però il molto vasto la precordia del nostro sport che qualsiasi tecnica potrebbe essere ripetuta anche a sinistra quindi ha la bilateralità nell'esecuzione tecnica e quindi immagini un po' quando possono diventare quindi diciamo che ci sono un numero rilevante di figure nello judo si sono tantissime quindi c'è molto la regola se non sbaglio è che l'avversario deve stare completamente con la schiena per terra oppure c'è anche per farlo capire il combattimento lo sciare si vince per il porno il porno è considerata la tecnica perfetta cioè quando l'avversario casca cade con le spalle per terra e quindi è come fosse il capò diciamo nel pugilato che arriva già a terra esatto Mario Mario Strasseri sono state più le vittorie che le sconfitte sicuramente hai bene o male un'idea di quante gare hai vinto nella tua carriera ma già è una decina di anni che pratico a livello agonistico questo sport quindi catacollocarle tutte quante è abbastanza complicato la cosa mia positiva è che tutte le sconfitte le ricordo e grazie grazie a questo ricordo posso sicuramente fare meglio nelle prossime ho capito io vi riprometto di farti qualche altra domanda Oliver non sono finite qua tu che sei puoi arrossire quanto vuoi ma ti ho qui accanto qualche domanda me la sono riservata anche per te Justin Timberlake Mirrors allora noi dobbiamo ringraziare il maestro Giovanni Strazzeri dobbiamo ringraziare Mario Strazzeri e Oliver Grasso per essere qua perché gli abbiamo in un certo qual senso distolti dagli allenamenti adesso voi appena finite qua andrete ad allenarvi andiamo in palestra abbiamo il corso dei bambini che già è partito ho capito quindi ha fatto un po' un'eccezione vabbè di questo ringrazio e a Oliver tu sei stato anche a Malta sei Reduce da Malta sì sì dove che gare hai avuto eh internazionali vabbè gare internazionali com'è andata? bene bene sono arrivato prima ecco e allora diciamo che si è fatto un po' perdonare la sconfitta di di Zagabria oltretutto penso che tu possa andare molto molto avanti visto la tua giovanissima età fino a che età si può fare del gioco maestro? ma non c'è età non c'è limitità perché prima a livello agonistico si può combattere fino a 35 anni ma dopo i 35 anni subendo le gare master e l'Italia permette di combattere fino a 65 anni ah fino a 65 anni si può combattere tutte le attività master noi abbiamo avuto un nostro anziano 65 anni che è arrivato secondo cammino di El Mundo a Dubai l'anno scorso a fine anno insomma questa è una bella è una gran bella soddisfazione io adesso mi rivolgo a Mario Strazzeri i programmi per il futuro che cosa cosa c'è nell'aria? ci sono tanti tantissimi sogni per per far sì che possa migliorare io ma soprattutto che possano migliorare tutte le persone che vengono in palestra a fare giudo perché essere da solo è molto più difficile e fare un'attività agonistica mentre se si è un bel gruppo si può crescere tantissimo insieme quindi Oliver è anche il frutto di un giusto allenamento che abbiamo che siamo riusciti a svolgere in palestra come gruppo e io ho dato tanto a lui e sicuramente lui dà tanto a me diciamo che il gioco di squadra allora è importante anche se poi sono delle gare personali però è importante attingere anche dall'esperienza di chi è più grande infatti è uno sport è uno sport di situazione che ti permette comunque di poter avere quell'esperienza che poi in gara ti permette di vincere e qual è Oliver il tuo cavallo di battaglia nel senso poco fa abbiamo parlato di immagini posizioni ben particolare qual è quella che ti riesce meglio contro l'avversario ecco come fai generalmente a mettere diciamo a K.O a vincere una gara che cosa che cosa usi molto le braccia molto le gambe lo sgambetto diciamo tutte e due cerco di metterlo in difficoltà capire qual è la sua difesa dove è più debole dove è più forte tuttavia diciamo spazzo la sua gamba e dentro in una mosso cercando di proiettarlo e vincere quell'incontro maestro mi scusi perché poi la domanda che devo fare sempre a Oliver i cadetti fino a che età arrivano? fino a 17 anni over 17 quindi ti è capitato di incontrare ragazzi più grandi di te ma anche fisicamente più grandi? sì 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 e là riescono a metterti in difficoltà oppure ecco la cominci a essere timido a aver paura perché vedi un avversario più grande più grosso di te oppure questo invece ti dà più forza? dipende se io penso che non ce la posso fare si mi viene paura ma se invece dico ce la posso fare allora in quel momento un tanto di coraggio diciamo ci provo un impegno la stessa domanda io la faccio a Mario anche perché Mario tu hai detto che sei io sono nella classe senior quindi come no 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 come peso diciamo ah 73 kg 73 kg vedo che sei un ragazzo medio alto però possibilmente può capitare anche che è uno molto più alto di te sì che rientra in quel peso sì rientra in quel peso e lì che quali sono possono essere le difficoltà è come quel pugile che incontra uno che ha il braccio più lungo la situazione è uguale nel senso che un ragazzo che magari ha le leve articolari più lunghe può arrivare prima a fare le prese di conseguenza può anticipare benissimo in questo caso me o chi come me basso nelle azioni nello stesso tempo però dipende molto dallo stile di combattimento perché ad esempio Oliver che è un ragazzo abbastanza alto sviluppa delle tecniche che con le sue leve articolari possono permettere delle proiezioni mentre noi che siamo piccolini diciamo chiamiamoci così riusciamo sempre a infilarci sotto cioè andare sotto l'avversario infatti questo volevo chiedere al maestro Strazzeri maestro diciamo che nel calcio tanto per fare un esempio uno piccoletto riesce ad essere più come si dice più agile più agile anche si si a sgattagliolare meglio rispetto uno che ha le leve lunghe nello judo è lo stesso il judo si è la stessa cosa però è limitato sempre perché c'è un limite di categoria quindi anche se qualcuno è più alto ma è sempre relativa la cosa perché bene o male il peso adesso è sempre uguale si quindi età e peso sono uguali quindi si può capitare magari l'atleto è più lungilinio ossia la domanda che le faccio è quello che è più robusto ma più basso ha ha più facilità rispetto a chi è più magro e più alto è molto personale quindi è una cosa personale personale non significa niente l'avversario può essere alto però può essere non significa niente è molto personale che tipo di allenamento fa fare i suoi ragazzi ma loro praticamente si allenano tutti i giorni ogni tanto gli concediamo il sabato come riposo perché poi la domenica siamo sempre quasi sempre in gara però sono ogni giorno sul tatami a lavorare dove lavorano sia giudoisticamente sia con preparazione fisica perché è necessario anche avere una buona preparazione fisica quindi sono sempre impegnati è un gruppo che in questo momento sta lavorando bene domenica siamo impegnati alla fine del campionale italiano junior se da un'altra nostra atleta di punto che è Angelo Mirabella campione italiano nel 2012 campione italiano nel 2013 andrà a giocarsi il titolo per il 2014 quindi ha una grossa responsabilità abbiamo un'altra atleta anche Leonardo Di Domenico che è pronto e sarà in palestra quest'ora a fare il calo peso ma nella sua scuola ha anche delle judoche femminile al femminile? sì abbiamo judoche femminile in questo momento non non ai vertici diciamo quindi abbiamo delle ragazzine che stanno crescendo abbastanza bene speriamo di riportare di riportarli su a fare risultati anche perché le donne quando vogliono riescono anche a impegnarsi tantissimo anni della nostra attività abbia fatto risultati con le donne le donne sono state quelle che hanno fatto risultati più di tutti l'ultima è stata Federica mia figlia che ora è in palestra a insegnare i ragazzini però a giro Oliver partiamo da te prossimi programmi cosa c'è in programma? se c'è qualcosa in programma naturalmente sì la gara a Genova a Genova quando? il 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 13 il 13 e a Genova che di che cosa ossia che cos'è il campionato? è una gara che fa parte del Grand Prix cadetti perché tutte le fasce d'età hanno un Grand Prix nazionale che devono rispettare quindi questa è una gara del Grand Prix dove praticamente è un'altra fase di un campione italiano stessa domanda Mario Strazzeri Coppa Italia 2014 già siamo qualificati di diritto perché l'anno scorso siamo riusciti a salire sul podio 31 maggio 1 giugno maestro Giovanni Strazzeri dovete avere la scuola programmi progetti per la scuola i progetti sono tantissimi ci stiamo dedicando parecchio a quella che è l'attività agonistica ma di di sciai però noi ci dedichiamo anche a quella che è l'attività agonistica per quanto riguarda i kata quindi abbiamo anche un gruppo perché il judo c'è la possibilità di fare sia gare di sciai e gare di kata sciai sarebbero le gare di combattimento e kata sono praticamente delle forme dei temi che sono ben stabiliti che bisogna eseguire e quindi siamo sempre in piena attività vogliamo ricordare siete tutte cintura e nere qua naturalmente dan primo primo dan terzo terzo dan io sono cintura nera bianca e rossa e sono sesto dan quindi ovviamente maestro mi sembra anche anche giusto il massimo credo no no il massimo il massimo no però tra i più alti bene io non posso fare che ringraziarvi ricordo che su Globus Radio Station ci sono stati anzi ci sono tuttora adesso li salutiamo il maestro Giovanni Strazzeri consigliere nazionale della federazione della FIGILCAM ossia federazione italiana lotta judo karate e arti marziali nonché Mario Strazzeri nazionale di judo una squadra nazionale a tre di punta del judo siciliano e il giovanissimo quattordicenne ma non per questo Mingherrino anzi tutt'altro Oliver Grasso vice campione italiano della serie cadetti di judo io vorrei che voi salutasse gli amici di Globus Radio Station ciao ciao a tutti ciao allora noi naturalmente ci sentiamo alla prossima con altro sport e mi raccomando sportivissimi sportivi Globus Radio Station è anche la vostra radio dedicata allo sport da Armando Garufi un grosso abbraccio a tutti buonasera sport e non solo la rubrica di Armando curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi questo programma è offerto da arti sonanti media musicali di Ernesto Giannotta il gusto che suona è arti sonanti piazza Vittoria Emanuele II Catania telefono 095 35 23 7 11 Mario Christmas le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi nell'album due grandiosi inediti Mario Christmas il tuo disco di Natale Baccalluzzo Eventi la pirotecnica scenografica lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi via Enrico Pantano 47 Catania telefono 095 715 0414 095 095